Controllo dell'affluenza sulle direttrici, più corse e mezzi a disposizione e l'invito costante all'utilizzo di mascherine e al rispetto delle regole di distanziamento per prevenire il contagio. Il primo giorno di rientra a scuola è stato superato senza criticità rilevanti anche per il complicato nodo dei trasporti, anche se il direttore generale Adribus Massimo Benedetti afferma che le situazioni più delicate e da tenere vigilate arriveranno con l'autunno e dunque con il cambiamento climatico e con la quotidianità da parte degli studenti di recarsi presso il proprio istituto. Sì, ieri in qualche modo abbiamo iniziato questa avventura per quest'anno. Siamo convinti, siamo consapevoli che non è la giornata dello stress test perché comunque le condizioni meteorologiche hanno favorito l'utilizzo di mezzi individuali, biciclette, motorini eccetera. Il primo giorno di scuola poi di solito è il primo giorno è quello in cui i genitori accompagnano i figli a scuola. Nel 99% delle situazioni non abbiamo rilevato alcuna criticità. E là dove è stata rilevata qualche criticità sempre nell'ambito e nel rispetto delle norme dell'80% del carico perché ricordo che il distanziamento a bordo non è la norma. La norma è l'80% di quanto previsto dalla carta di circolazione. Quindi magari dall'esterno si vedono delle persone sul corridoio, in piedi eccetera, però siamo esattamente nell'ambito di quanto previsto dall'ultimo DPCM e dalle ordinanze regionali. Criticità che si sono registrate e dove? Un po' macchia di lopardo nella provincia. Ieri nella zona di Acqualagna con direzione Urbino, qualcosa a Pesaro in direzione cattolica gradare alla Romagna, qualcosa sulla circolare destra qui a Pesaro. Alcuni mezzi erano abbastanza vuoti e gli altri erano abbastanza pieni. Il lavoro sartoriale che stiamo cercando di fare adesso è quello di una ridistribuzione dei carichi, quindi potrebbe verificarsi che alcuni mezzi non si fermano a determinate fermate ma perché subito dietro ci sono altri mezzi che sopraggiungono e permettono di effettuare lo spostamento. Ieri abbiamo messo in pista 15 mezzi in più, ma un mezzo non fa solo una corsa perché durante l'arco della giornata, poi anni fa, è utilizzato più volte ed è soprattutto più semplice potenziare i servizi in ambito cittadino. Quando i nostri verificatori girano in questo momento stanno esclusivamente verificando sia il livello di riempimento dei mezzi ma anche l'uso della mascherina, quindi abbiamo messo da parte qualsiasi altra attività di controllo. Gli autisti che comunque verificano il corretto utilizzo della mascherina, certo loro guidano, però hanno il compito di eventualmente avvertire i propri superiori se ci sono delle zone particolarmente problematiche da questo punto di vista e anche se è necessario quindi per allertare anche forze dell'ordine.